La vittoria nella lotta al Covid-19 passa per uno stretto rispetto delle norme sul distanziamento sociale e sul contenimento sanitario. Dopo un'apposita riunione di coordinamento tecnico presieduta dal prefetto di Siracusa e su indicazione di quest'ultima, la Questura attuerà in tutto il territorio provinciale con il concorso delle specialità della Polizia di Stato, Polizia Stellare, Ferroviaria e Polizia di Frontiera, in concorso con le altre forze dell'ordine, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locali, in occasione delle prossime festività pasquali, attenti e capillari controlli in tutta la provincia, in particolar modo nelle aree extraurbane, nelle zone balneari, sulle spiagge, nelle località montane e collinari del territorio siracusano, finalizzate al rispetto delle normative sul contenimento sanitario. Si confida nel senso di responsabilità di tutti i cittadini che stanno dimostrando in questo delicato periodo, in larga parte, di voler rispettare le direttive del Governo, sposandole le finalità. Anche se i numeri del contagio nazionale e locali fanno ben sperare e inducono in un cauto ottimismo, è necessario continuare a permanere a casa, perché è l'unico modo per sconfiggere la pandemia. Sono convinta, dichiara il questore di Siracusa, Gabriella Iopolo, che i cittadini del nostro territorio, nell'ottica della sicurezza partecipata, rispetteranno le limitazioni imposte dalle normative anche durante i giorni della Santa Pasqua, perché convinti della necessità di effettuare questo ulteriore sacrificio nell'interesse comune. In questi giorni, in attuazione del piano coordinato voluto dal Prefetto, sono stati programmati e predisposti imponenti servizi di controllo che prevedono la partecipazione di tutte le forze dell'ordine territoriali e locali per presidiare, con la maggiore efficacia possibile, l'intero territorio della provincia e assicurare il rispetto delle misure di contenimento nazionali e regionali adottate per il superiore bene comune della salute pubblica. Grazie a tutti!